Seconda giornata a Merano Wine Festival, siamo in compagnia di François Stevenende, presidente del Centro Internazionale di Ricerca per la Viticultura di Montagna, che oggi alle ore 15 ci presenterà in particolare un progetto che ha a che vedere con l'incontro sci e cantine. Di cosa si tratta? In Cantina con gli sci è un progetto che è nato tra i nostri associati, in modo particolare la Valtellina, che si vedeva passare migliaia di persone che andavano a sciare in montagna e che forse neppure sapevano che si produceva del vino in Valtellina. Ma questo succede un po' in tutte le realtà della montagna, per cui l'idea è stata un po' questa, possiamo offrire agli sciatori che vengono nelle nostre montagne e che vanno a sciare anche l'opportunità di visitare delle cantine, di degustare i vini, i vini di montagna, i vini di una viticoltura un po' particolare, ma che offrono grandi prodotti di qualità. Sono vini di nicchia, sovente non sono conosciuti, per cui il nostro primo problema è farci conoscere, farci riconoscere anche a livello internazionale per la riforma anche dell'OCM che verrà nel 2012. E quindi questa è un'occasione che vogliamo presentare a chi? Agli sciatori che sono negli alberghi, agli sciatori che vanno giornalmente a sciare, con gli impianti di risalita, con i produttori, diamo la possibilità a chi vuole, in determinate giornate, di conoscere e apprezzare questa viticoltura. Viticoltura di montagna in forte pendenza, terrazzamenti, insomma una nicchia di viticoltura che si sta facendo apprezzare nel mondo intero. Mi sono permesso di non introdurre il Cervin perché i lettori di Wineblog e anche di Mountainblog lo conoscono già, però con l'occasione di avere qui con noi il Presidente vorrei andare più in dettaglio su quello che può essere il ruolo della viticoltura di montagna nello sviluppo delle zone di montagna. Bisogna considerare questo, che intanto è una viticoltura che si trova in una posizione sovente di montagna ma di pendenza con un terreno che è importante proprio per la viticoltura, per la mineralità, per la presenza di sole, per la presenza del freddo, per la presenza del ghiaccio che dà dei valori importanti a questa viticoltura. Cosa significa? Significa anche promuovere e difendere un territorio, significa che se qualora venisse abbandonato avrebbe dei costi importanti per la società, tutta, e quindi questo poi porta un fatto positivo enorme. Allora, da un lato economia, perché faccio un esempio, in Europa ci sono circa 200.000 aziende, in Europa ci sono circa 500.000 lavoratori in questo settore e poi bisogna considerare che è anche integrativa la proposta, chiamiamola così, turistica, perché naturalmente i paesaggi fanno sì che queste realtà siano importanti proprio dal punto di vista paesaggistica e soprattutto difesa del territorio. Ecco, questi sono i valori. C'è un problema economico, un problema integrativo alla proposta turistica e naturalmente tutto questo fa sì che c'è gente che vive, che sia economia che va all'interno di queste realtà di montagna. Per concludere, dal punto di vista privilegiato di un istituto come il Cervin, come si posiziona l'Italia rispetto a questi temi e all'attenzione verso la viticoltura montana? L'Italia, bisogna dire, ha le più grandi realtà interessate, al di là del Piemonte, Valle d'Aosta, la Lombardia con la Valtellina, il Trentino e l'Alto Adige, ci sono le Cinque Terre, c'è l'Abruzzo, ci sono le piccole isole, perché anche queste hanno delle reali difficoltà, c'è da Pantelleria a Dischia, dall'Isola del Giglio all'Isola dell'Elba, ci sono tutte queste realtà che meritano di essere conosciute, che hanno evidentemente dei costi più elevati, ed avendo dei costi più elevati si tratta di spiegare il perché, di far conoscere le reali motivi per cui questi vini hanno dei costi più elevati, ma a questo si aggiunge una qualità senza la quale, è chiaro, non sarebbe facile portare avanti questi progetti. Noi questo lo portiamo avanti attraverso dei concorsi internazionali dei vini, attraverso dei congressi che teniamo di volta in volta nelle regioni d'Europa, al prossimo anno toccherà alle pendici dell'Etna avere la sede congressuale, e quindi il tutto per far sì di essere così, come dicevo prima, riconosciute ai vari livelli con le istituzioni europee, ma anche con le istituzioni italiane.